Allora, Alessandro Sara è un giocatore che ho seguito fino a tre stagioni fa, due stagioni fa, quando ha iniziato il suo percorso, lo seguivo, il percorso del Milan, e giocavo in Primavera 1 e poi in due anni scorso. E ne ho sempre appassato di qualità di una mezzana moderna, un giocatore che cammina molto bene le fasi di gioco, un giocatore portativo, un giocatore che ha capace di inserimento, alcune delle caratteristiche che a me piacciono per chi interpreta quel ruolo lì. E quindi la sua è la più importante perché io seguivo questo gioco da tanto e per me rappresentava un cruccio che mi sarebbe piaciuto portare qui. Non ne ho capito l'anno scorso perché mi è passata l'esperienza lavorativa, non l'ho immaginato, ma anche se lui nel 2001 è già sicuramente molto giovane. Però è un giocatore che ha delle caratteristiche che a me piacciono molto, e che si sforza anche con quelle che sono le idee tattiche e tecniche del mistero. Nicola, lo presentiamo in teoria formale, insomma, quello che lo conosciete meglio di me, e ha un altro tipo di percorso. Il suo è probabilmente l'incarnazione di quello che abbiamo cercato di portare avanti fin dall'inizio di questa nostra nuova avventura. Quella di, come dire, di portare la nostra squadra di elementi che hanno qualità tecniche, e Nicola c'è la capacità alla tattica, perché è un giocatore che ha anche, in due prossime linee, attitudini tattiche capaci di renderlo utile anche in più zone del campo, in varie atteggiamenti tattici. Ma soprattutto Nicola è un buer ragazzo, dice Sena, dice Sena, dice Sena. Grazie. 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 Grazie.